Poi vi voglio far conoscere alcuni giocatori proprio quasi semisconosciuti degli anni Ottanta. Uno è questo, François Zahoui, che arrivò all'Ascoli, del mitico Costantino Rozi, un costruttore edile che amava veramente tantissimo l'Ascoli. Si racconta che questo giocatore fu acquistato in risposta ai grandi campioni, alle maree di denaro che venivano spese dai grandi presidenti di squadre come Juventus, Inter e Milan. Dice ecco questa è la dimostrazione di come noi ci possiamo permettere solo stranieri da due lire. Infatti pare che fu pagato 20 milioni di lire e stipendiato con il minimo sindacale che all'epoca era un milione al mese. Adesso invece è 1500 euro, il minimo sindacale che è assicurato dalla federazione ai giocatori. Poi c'è questo Sorens Kov, che arrivò all'Avellino, un centravanti danese che fece tantissimi gol in patria e nessuno in Italia. Il terzo è un tal Herbert Waas, attaccante di riserva della nazionale tedesca. Pure lui andò a contribuire alla flotta degli stranieri a Rubio, al Tonnen, che in quegli anni andarono a vestire la maglia del Bologna. Il Bologna allenato da Mayfredi.